ragazzi è partito buonasera a tutti ciao a tutti questa sera ci troviamo al Duomo di Milano e intorno a noi c'è veramente tanta gente questa sera faremo dei giochi di prestigio veramente straordinari state a guardare fino alla fine perché sarà divertente ma sono trucchi veri ma li sappiamo fare vabbè voi restate e poi ci vediamo più tardi gentili amici siamo qua accompagnati di un gruppo di ragazze che se vogliono prestare per vedere un gioco di prestigio e voglio farvi un gioco che vede l'utilizzo di una moneta che questo mezzo dollaro è d'argento e l'argento non può grattarsi via io prendo un altro oggetto che mi servirà per il gioco non si grazia è approvato ok qua ho un accendino farò controllare invece lei cortesemente che l'accendino funziona, è regolare, non costituisci funziona perfetto pubblico abbiamo visto che l'accendino è regolare la moneta anche siamo pronti per la grande magia prendiamo la nostra moneta apri la tua mano sinistra metteremo la nostra moneta all'interno della mano stringi pure forte prenderemo il nostro accendino e lo mettiamo semplicemente sotto ora io andrò a scaldare la moneta in modo tale che la moneta, ecco qua, si sciolta tu hai sentito la moneta, la senti la moneta? si attenzion hai sentito qualcosa al dia del calore dell'accendino? no però mettiamo via l'accendino, è stata controllata la moneta l'argento non si poteva grattare ma se dovesse aver funzionato no 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 un applauso straordinario grazie no 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 ciao Claudia come va? è piacere scegli una carta qualsiasi? spero che sia un re di cuore mi hai detto che non vuole fai la vedere in camera per piacere? no ok l'hai memorizzata? si ti piace la carta? no non ti piace? no non si può sempre essere fortunato meschiamo un po' le carte ti va? si ti convinto? ok facciamo qualche taglio ok dunque io non so dove se la cazzo però ho un presentimento che la carta potrebbe salire sopra se io faccio questo movimento hai visto il movimento? avete visto il movimento? no lo rifacciamo no lo rifacciamo? no non c'è bisogno perché la tua carta sale sopra era questa? i quattro picche? si? allora magari non sei stata abbastanza attenta magari non sei stata abbastanza attenta guarda proviamo a fare una bella cosa prendiamo la tua carta e la mettiamo più o meno in mezzo si? ok hai visto? dai in mezzo hai visto? non ci credo non è possibile a provare se non sono tutti quattro i picchi ok wow quattro di picchi quattro di picchi giusto? si e magari tu adesso non sei molto convinta no perché voglio andare fuori allora facciamo così quattro di picchi è qua giusto? facciamo una bella cosa quattro di picchi giusto? si tagliamo ok e metto più o meno in mezzo spingi dentro per piacere spingi dentro no non ci credo infezionate ciao grande buono buono